Sofferenza per il campo, sofferenza per le condizioni fisiche, magari terza partita nel giro di una settimana, per quale motivo? Perché è chiaro, era difficile dopo, come hai sottolineato giustamente, dopo primi 20 minuti quasi perfetti. Sapevamo che il campo era veramente pesante, tra l'altro da fuori magari si ha una certa sensazione, però dentro fidatevi che era veramente difficile poterla giocare, quindi dovevi essere cinico, dovevi essere pratico. Abbiamo iniziato bene, potevamo già fare due o tre gol i primi 10-15 minuti, a memoria vado ora, e poi rischi magari di prendere un pareggio, anche perché mi hanno sempre insegnato che una squadra avversaria almeno un'occasione ce l'ha, quindi attraverso il primo tempo e quella il secondo, però abbiamo saputo soffrire, d'altronde il campionato in D è anche questo, e bisogna calarsi nella mentalità e quando c'è da buttare su palla e fare la guerra bisogna essere in grado di fare anche quello per poter poi puntare in alto. Allora Danilo Alessandro, protagonista in assoluto proprio nel primo quarto d'ora, un errore da due passi, non da Alessandro, poi invece il gol dove ha fatto un grande lavoro a Tonelli, il taglio di Fortunato, ci racconti i due episodi? No, siamo stati tutti protagonisti, abbiamo fatto una partita importante anche se abbiamo sofferto nel secondo tempo, però va bene così. Nel primo gol, ti dico la verità, non so come mi ha rimbalzato, l'ho presa male, poi pensavo di essere in fuorigioco, però ho sbagliato, non devo fare quegli errori, non è che devo trovare scuse. Sul secondo gol ha fatto tutto Tonelli, mi ha messo davanti al portiere e dovevo solo tirare in porta, è stato bravissimo lui.